Siamo la compraternita della Beata Vergine di Casaluce, dell'Ordine dei Celestini, poiché fu San Celestino a fondare l'Ordine dei Monaci che noi stiamo qui a rappresentare, che erano i custodi dell'icona della Madonna di Casaluce. Lei di dove è? Di Casaluce? A Versa. Lei viene da Versa qua. Non solo la segua da Versa, ma viene anche a Casaluce. Viene anche pure a Casaluce. Come si chiama? Paschuale Smano. Ecco la Madonna! La Madonna! La Madonna! Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti.